Sono Enza D'Alessandri di Sale e Pepe e sono qui con Roberto Maurizio, chef, insegnante di cucina per con gusto e i corsi di Sale e Pepe. Appena terminato un corso con i piccoli cuochi e volevo chiedergli se sono migliori come lievi bambini o gli adulti. Forse direi più i bambini, è bello partecipare con loro, collaborare con i bambini perché comunque vedi loro ancora l'innocenza e il gioco, è un divertimento. Invece magari l'adulto lo vede ancora come lavoro, non un passatempo come lo vedono i bambini. E che cosa hanno insegnato al maestro i bambini? La loro voglia di fare, la loro felicità, la voglia di mettere sempre le mani e proprio anche la curiosità nel fare sempre cose nuove. Quindi l'educazione alimentare passa anche e soprattutto per l'esperienza, per il gioco e per il divertimento? Penso che sia la cosa fondamentale far passare il tutto attraverso magari il lavoro, cioè il fatto di toccare con mano quello che poi magari servirà per loro nella vita. Cucinare insieme ai bambini può essere un aiuto per le mamme che hanno dei bambini più difficili a tavola? Credo che la fantasia a tavola sia d'aiuto per i bambini che a volte sono un po' difficili nell'alimentazione, nel riuscire a mangiare determinati piatti. Forse avere un po' di fantasia e andare a presentare dei piatti colorati, spiritosi, magari prendendo anche dei nomi o delle immagini un po' così da cartone animato, sicuramente vicino il bambino al piatto, alla preparazione fatta dalla mamma. Allora grazie Vi ringrazio